da questa mattina c'è un modo migliore per farsi capire ma senza annoiare tutti d'accordo tutti d'accordo studiare imparare beh non fa certo male ma prima di tutto impariamo ad amare tutti d'accordo tutti d'accordo ci piace perché parla con il cuore ci piace perché è buono come fare ci piace perché sogna e fa sognare ti ci piace perché è più più che speciale beh insomma modestamente il mondo di fuori non cambia colori facciamosi sotto gli diamo due mani tutti d'accordo? d'accordo! tutti d'accordo? d'accordo! da questa mattina facciamo sul serio chi vuole sognare lo faccia davvero tutti d'accordo? d'accordo! tutti d'accordo? d'accordo! A ci piace perché parla con il cuore ti ci piace perché è buono come il pane ci ci piace perché sogna e fa sognare ti ci piace perché è più più che speciale A ci piace perché parla con il cuore Ci piace perché è buono come il pane Ci piace perché sogna e fa sognare Ci piace perché è più più che speciale Vai l'Ibeccio, vai l'Ibeccio, Vai l'Ibeccio, vai l'Ibeccio, vai l'Ibeccio! Vai, vai l'Ibeccio. Vai 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 vai, prendilo l'Ibeccio... Libeccio, ora mi ha venito in mente di chiamarlo come il vento Perché quando l'abbiamo trovato era una giornata di Libeccio no E quando c'è Libeccio lui eh... gli dà la testa. Ecco ma di te gli dà la testa sei tu che mi dà la testa bambino bambino ti piace il mare si eh senti il rumore che bello bambino bambino amore non si può mica continuare a chiamarlo bambino bisognerà trovarvi un nome no che dici o vogliamo chiamare anche lui con il vento pensa se fosse stata una bambina avevo il nome pronto tra montana montana no scherzo scherzo io il nome ci ho il nome di mio padre che ne pensi? era meglio un vento forse è per te scommetti che al bambino piace adesso lo chiamo pronto bambino è ancora il papà che parla ti piace il nome? cosa? ma non è possibile ha detto che preferisce il nome di tuo padre geronimo scusa tuo padre non si chiamava gerry si chiamava gerry si per forza poverino il nono l'aveva chiamato geronimo sai con quella fissazione suonare sugli indiani pelle rosse eh geronimo si immagino santo cielo anche a me piacciono gli indiani ma non chiamerei mai mia figlia o mio figlio lo so nuvola bianca nuvola bianca viene a fare la pipì viene a mangiare dai dai vai a ridere oggi sei eh tutto un po' sto scherzando il nome lo troveremo vedrai adesso la cosa importante è che tu lo dica Giulia e anche al tuo ex marito è giusto che lo sappia perché non glielo dici oggi? oggi? eh quando riporta Giulia lui non riparte stasera singola ma io non ce la faccio mica a dirglielo oggi no nella sera vuoi che lo diciamo insieme? no no non mi siete nemmeno presentati dai glielo devo dire io senti è passato troppo tempo se lo venisse a sapere sarebbe ancora più brutto penso oggi quando è venuta a scuola avevo la voglia di dirglielo no eh promettimi che non lo farai promettimelo ma cosa non ti fidi di me? diciamo vi doveste incontrare per caso un'altra volta te non vi dici niente no? eh prometti? uffa promesso parola di lupetto parola di lupetto ci devo credere la tua parola di lupetto io non sono mai passato sulla mia parola di lupetto insomma finché non sarà tutta la luce del sole io non sono tranquillo soprattutto per Giulia hai ragione com'è tardi Cesare mi riporta la bambina e bisogna che si vada si adesso andiamo il gomitolo il gomitolo libeccio dai libeccio vieni qua vieni qua libeccio vieni qua libeccio se ti prendo Stefano prendiglielo libeccio molla il gomitolo ma dove andai? Stefano dove è libeccio? eccolo là libeccio libeccio tento la rete cosa? cosa? accidenti ma dovete farle per forza trasparenti queste rete se no come li freghiamo noi pezzi? ma così fregate anche me ma te ridi eh scusi ah ridi no no eh no mi accompagnate adesso vantano tranquillo tranquillo tanto ora arriva Cesare amore non essere così agitata guarda che non siamo due grandestini sono agitata ecco ciao ciao eh ciao un telefono eeeh gli parlo tranquillo eh si gli parlo stasera Cesare vai tranquillo ciao ciao mamma questa notte dormo da papà siamo in un albergo bellissimo ti mando un bacio forte forte ci vediamo domani a scuola pronto? pronto amore? pronto dove sei? pronto? no ma perché non me la riporta a casa? ma non può farmi questo non può farmi questo Stefano 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 ho preso questo vai con la cazza ma prego prego il pennello tostatino uno cante e tre succhi di frutta richiesto ciao richiesto ciao 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 Claudio ciao Claudio buongiorno buonissima signora un cappuccino e due cornetti in busta per la merenda grazie ah già che c'è? vi faccio il cioccolato e una sfogliatella grazie la sfogliatella la prende qua? si si la mangio adesso buongiorno ragazzi buongiorno maestro buongiorno Claudio il solito per favore ma hai sempre questo caffè di corsa? io volessi far assaggiare una sfogliatella una volta io vi vorrei far assaggiare meglio grazie ma se avrei studiato stavo dietro a un banco e non a un banco no se avessi studiato Claudio se avessi oh ma non a zecchi una ma capisci la conseguuzio è importante e che resta per secuzio? ma che per secuzio? si beh in effetti i verbi ci perseguitono però è anche l'unica maniera per farci capire ah signorina la vostra sfogliate? ah si grazie eh il cuore è muto la lingua si appiccica ma gli occhi parlano arrivederci arrivederci Claudio l'amore è cieco ma mica sordo eh e no dico se continua a parlare con tutti questi errori le ragazze ridono e allora? quelle più ridono e più si innamorano perché ha già cagnato? senti mi dispiace deluderti ma Cristina rideva di te non per te no dico capisci la differenza? o veramente? eh o veramente si dammi un babbà va? ecco a voi mi sa che è meglio se torni sui banchi di scuola sai? ma voi state pazziando meglio manicomio meglio a prigione io maestro è inutile quello è un ignorante ma sapete come è passata la scuola dell'obbligo? perché i professori si sono sentiti obbligati a promuoverla niente meno teneva zero incondotta e la pagella pareva la scadina e poi non stavo mai fermo sopra i banchi pareva una anguilla pareva voglio sparicchiare il banchi vai beh vogliamo va non guilla il mio padre mi fa un pesce spada copunzullino sempre pronto ah scusate ma oggi fa ho conto alle pinguine alle pinguine? che sono le pinguine? senti e allora i preti cosa sono? delle foche? dei cardinali? dei petti rossi? non ci avevo pensato mi ho fatto un giardino zoologico ma è ciao Claudio ci vediamo vedeci sorelle ah ma è il caffè me lo offro io questa volta grazie scusi ci fai il conto abbiamo preso so tutto so tutto allora avete preso sei salati tre cappuccini quattro cornetti due aranciate sono 18.450 no Giovanna non mi considera proprio capito? ma ha fatto tutta mente? ah è logico ma dico che non adopera la calcolatrice e no perché dici che con la calcolatrice si imbiccia buongiorno ah buongiorno no guardi cappuccino lo offro io ci penso io cappuccino non lo voglio scusa allora quello che vuoi io te lo offro io non prendo niente sono a dieta ma scusa perché sei venuta qui? per non prendere niente Claudio scusa mi ce l'hai tu e babà? è così che fa la dieta è così che rinuncia guarda che l'unica cosa che rinuncia sei tu vabbè Stefano io l'ho capito però io ho perso la testa per questa ragazza io non so più cosa fare io passerei al volantinaggio ecco ma che sei pazzo al volantinaggio i sentimenti vanno nascosti e tu fai il volantinaggio dai a parte che non li capirebbe neanche col volantinaggio e poi senti la tosse e l'amore non si nascondono uno che ha la tosse si chiude in casa e buonanotte no? sì buonanotte tu sei troppo innamorato capisci? calma calma ci vuoi ma figurati se accetto consigli da te che non ti ho mai visto con una donna da quando ti conosco questa è un'altra storia un'altra storia io ho una broncopulmonite cronica aggravata capisci che vuol dire che sono molto innamorato ah sì però lei non lo deve sapere se no è finita non me lo ricordo ho perso la memoria ciao ciao scusami stessa scusami stessa non le faccio capire niente sì va bene ma ah seta io oggi comincio una nuova terapia una cura ricostituente no? per la memoria perché un po' devo prendere alle nove una pillolina allora ho bisogno dell'acqua senti Claudio me la porti su tu l'acqua eh tutte le mattine ricordi? io lui ma scusate ma non me lo potete ricordare da solo io mi ricordo da solo e allora che la faccia fare la cura per la memoria se mi ricordassi non farei la cura per la memoria no? eh Claudio mi raccomando eh tutte le mattine ricordatelo eh buongiorno 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 avete visto Giulia? ancora avete visto Giulia? buongiorno oh Polina hai visto Giulia? oh ciao hai visto Giulia? no perché cos'è successo? senti hai parlato con lui ieri sera sì Polina no non ho parlato né con lui né con lei e me la devo riportare e invece non è arrivata vabbè presto stai calma stai calma vedi presto suona la campanella quella è Elvira Elvira lo sai che c'è il suo fusione interno la posso dare in anticipo dai stai calma ok ok vieni in classe sì io vado fuori sì a vedere se è via tesoro ma guardati ma guarda i lacrimoni ma insomma si va contenta in classe su vai che c'hai coca? Giulia non è ancora arrivata non è venuta con te? ha dormito dal papà va bene così sto un po' anche col padre vuol dire quando l'accompagna finalmente conosco questo marito ex marito Elvira ex marito oh cosa avete il capello? eh avete visto? è bastato un po' di buio e la speranza per farli crescere vi ricordate che 15 giorni fa avevamo solo dei bulbi e invece adesso guardate che meraviglia è un miracolo è uno dei tanti miracoli che fa la natura hai permesso? ciao Claudio sì avanti uè ciao ciao Lu ciao la daremo eh eh l'ho portato l'acqua bravo mettila lì però bambini attenzione perché non tutte le piante crescono subito come vorremmo prendiamo questa per esempio è tutta di spiego ci vorrebbe un sostegno per tenerla su un bastoncino ecco va bene anche sta matita guardate così visto? ecco la scuola è un po' questo no? è una specie di bastoncino che vi aiuta a stare ben dritti che vi aiuta a far crescere la pianta che è in voi una pianta che poi in futuro dovrebbe dare dei buoni frutti almeno si spera uè vuoi stare dritto sì o no? bello dritto mi sa che anche tu hai bisogno del bastoncino sai? ehi ma la pillola per la cura della memoria non ve la pigliate? la cura della memoria? perché devo fare una cura per la memoria? se vedi che ne tenete proprio bisogno vabbè la faccio domani la comincio domani adesso vai che devo continuare la lezione allora pronti per la tombola bambini eh? la tombola? prima le piante qua poi mo la tombola con i fageli ma che razza di lezione sarebbe? geografia perché tu come la facevi geografia? eh vabbù mo la geografia si fa con la tombola e la storia come la facete che te ne ha l'olto? ma cazzo mi ha pazziando proprio ah sono avanzate delle cartelle qualcuno ne ha bisogno? e si potesse giocare? si potrebbe giocare eh? tieni prendi questo dai mettiti lì accanto a Simone allora pronti? incidenti Giulia non è ancora arrivato certo la figlia della direttrice buongiorno eh ciao si può sapere che è successo? niente come sarebbe a dire niente? lo dico ti sembra questa allora devi arrivare a scuola? eh di tutto ho pensato io di tutto papà mi ha fatto fare colazione in albergo ho detto che se facevo tardi per una volta mica succedeva niente ah bel sistema davvero proprio un bel sistema guarda che te una notte sul registro non te la leva nessuno oggi eh no non è giusto eh invece è giustissimo pensa giustissimo eh tanto papà si ferma per tutta la settimana e perché? per stare con me ma quanto è questa? veloce veloce sai ho tutto in giro stamattina siete eh attenzione adesso andiamo per la tombolissima vediamo un po' ah bene in questa città c'è un duomo che è tra i più belli d'Italia anzi del mondo Orvieto ce l'ho yuhu ce l'ho vai vado per tre a me mancano quattro ma è stata uscita Savona? no Savona non è uscita e Pisa con Pisa faccio tombola mi dispiace ma la torre di Pisa non è uscita anche a me manca Pisa ed ora andiamo avanti con ah bene questa città ha un famoso circuito automobilistico e qual è? boh Imola yuhu ce l'ho anch'io vado per tre oh tu ce l'hai Imola mettici un fagiolo oh hai ragione che l'Imola cercava a sud e invece se ne riuso a nord ah 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 Mi dispiace, Giulia, ma dovrai aspettare la prossima tombola. Questa era mai già iniziata. Ciao, Carlotta. Ciao, Giulia. Allora, altra città, Torino. Ma che lì tra tutti così, ritarda tanto? A me quando facevo ritardo mi mette una faccia al muro. Manca fosse stata una connannata morta. La spezia. Eh, la spezia pure la tengo, eh? E la saccio perché ci stavo parte male. Allora, attenzione, altra città. Oh, piano, piano, che vaga per uno, vado per uno, vado. Uè, satte fermo, a casa non c'era tutta la fasura. Siena. Non passava giù. Non guardare, eh? Non guardare. Ma il palio, no, fa un palio di Siena. Ti piacerebbe? Piacerebbe, piacesse. Sempre a malocchi muoio. Io, ma il per due. Bene, attenzione, prossima estrazione, prossima città. Ah, qui c'è il vino buono. Asti. È possibile che non me ne esce mai una? Ce l'ha. Questa è una città famosa per il suo lago. Como. Como, como, tombola, 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 tombola. Eh, no, 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 un momento, eh? Regione. Como, regione di Emilia. No, como, regione di Lombardia. Sì, Lombardia. Como, regione di Lombardia. Ma insomma, l'ha già vinto, sì o no, sta tombola? Sì, sì. Allora, ragazzi, attenzione. Questa volta l'uovo di Pasqua lo vince Claudio. Bravo! Non è bello, non è possibile. Ho vinto una cosa a scuola. Ragazzi, ma ci pensate? Ho vinto una cosa a scuola. Incredibile, incredibile. Mirella. Ma perché? Che cosa c'è Mirella? Che sta piangendo? Cosa c'è Mirella? Niente. Niente? Stai piangendo? Piango per nuovo. Tra un po' è Pasqua tua madre e te ne comprerà uno, no? Mamma, non me lo compra mai l'uovo. Babù, che fossa. Unissimo pezzettino. No, io voglio il mio. Mamma, non me lo compra perché dice che costano troppo. Ma non è vero. Invece è vero. Bambini, ascoltatevi un attimo. Vedete, le vostre mamme ogni settimana, per far la spesa, hanno a disposizione una certa somma. E non sempre con questa somma riescono a comprare quello che voi vorreste. È chiaro? No, mamma, non ci pensa. Invece ci pensa, sicuramente. E senz'altro è più dispiaciuta di te. Sapete cosa faccio domani? Che cosa? Prendo un po' di soldi dalla cassa scolastica. E poi andiamo tutti quanti a fare la spesa al negozio del papà di Paulino. Di mio padre. Così vi renderete conto di quanto sia difficile far quadrare i conti alla vostra mamma. E che caspite lezione sarete? Una lezione di vita. Bravo Paulino. Ah, se io vengo di frega tutti quanti sulla spesa sono il migliore. Tocca a me fare le provviste per il bar. Ah sì? Allora ti aspettiamo domani. Ma certo. Ragazzi, siete proprio fortunati. Vi trovo un maestro pazzariello. Ciao, Aglio. Ciao. Allora ragazzi, pronti? Per un altro, una bella bombola. Ciao. 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 Ti capito? Ciao. 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 Aspetta Giulia. Giulia? Mamma, ti voleva parlare? Sì, l'ho già avvistata prima. Però se le incontri, dille che sono andata con papà. Ciao. Almeno, almeno salutala, no? Ciao, non posso. Buongiorno. Allora, come andate? Bene. Adesso andiamo a mangiare i punti di mare. Voi? Ciao. A domani. Ciao. Ciao. A domani, maestro. A domani, maestro. Sì, a domani. Ciao. Ciao, ciao, bambini. Sì, grazie. Buon mattino. Ciao. Giulia? E andatevi adesso col papà. Allora, scusa. Con Cesare. Lo vedi? Fa il gioco sporco fa. A mamma me lo dovevo aspettare, sai? Ma sono cretina, io sono cretina. Elisa, per favore, calmati. Ma che calmati? Eh, fa di tutto per portarsi via la bambina. No, no, Elisa, Elisa, non è così. Ma che ne sai di com'è? Non lo conosci te. Ma perché devi drammatizzare tutto? È sua figlia, no? Cosa fa del mare a sua figlia? Stefano, per favore, eh. Sai cosa ti dico? Siamo intorto noi con lui. Ma bella questa, sì, bella. Cioè, lui rapisce mia figlia e ha anche ragione. È imbecille, lo vedi che è imbecille? Ma che imbecille, scusa, eh? Ma finché non gli diciamo la verità, noi siamo intorto, lo capisci? E allora la saprà, la verità? Oggi pomeriggio alle 4 in punto all'hotel Miramare Cesare saprà la verità. Oh, mamma mia. Per un quarto d'ora di ritardo e cosa deve sapere? Elvira, non ti ci metterà anche te per piacere, eh? Consuelo! Consuelo, una cazzina! Oggi? Alle 4 in punto all'hotel Miramare almeno mare finisce l'incubo o comincia. Ma non ce la faccio. Ma io mi sto comando l'ulcera, lo sento, mi sta venendo l'ulcera. Ma dove vado? Dove vado? Io devo andare a casa. Ciao. Ciao. Posso entrare? Certo, vieni. Senti, ti devo parlare. La bambina dov'è? È giù in cortile con due amichette che ha incontrato qui. Ah. E perché te la sei portata via così oggi? La scuola? Perché non ti siedi? No, grazie. Certo che Giulia ha ragione, sei proprio strana in questo periodo. C'è qualcosa che non va. Senti, guarda, non mi complicare la vita, per favore. Mi puoi mandare a chiamare la bambina, grazie? Ma perché? Sta giocando. E poi è contenta di fermarsi qualche giorno con me. Qualche giorno? Ma guarda, Cesare, non me la porterai via, capito? Mai, mai! Ma lo sai benissimo che non farei mai una cosa del genere. Beh, dimmi cosa vuoi allora, dimmi. No, forse sei tu che devi dire qualcosa a me. Su, siediti. Ti prego. Sai, forse nelle tue condizioni non è prudente agitarsi tanto. Nelle mie condizioni... che condizioni scusano. Elisa, ci conosciamo da tanti anni, io e te. Pensa che ieri sera ho dovuto dire a Giulia che il vestitino azzurro che ha trovato nel tuo armadio da neonato faceva parte del suo corredino. Fortunatamente lei ci ha creduto ed è stato un bene. Perché vorrei che fossi tu a dirglielo. Sei incinta, vero? Mi dispiace, avrei dovuto dirlo anche a te, magari in un altro modo. Sì, effettivamente Giulia e io avevamo tutto il diritto di saperlo. Sì, solo che è un momento così difficile, vedi. Mi sono confusa, confusissima. Cerca di capirmi. Lui chi è? Lo conosco. Sì. Cioè, insomma... No. Così, magari di vista, ecco. No, però no, no. Non credo che tu lo conoscano. E adesso? Non credi che sia arrivato il momento di presentarmelo? Sì, beh. Sì, anche lui ne sarebbe felicissimo. Magari... potremmo venire a trovarti domani, eh? Così te lo faccio conoscere. Domani o dopo domani. Senti, la bambina ad ora la lascio qua. Me la riporti tu domani pomeriggio? Te la riporto io. Vabbè. Vabbè, ciao, scusami, eh. Ciao. Ciao, eh. Mi guarda le cinque, gli avrai già parlato. Ma... Ma cos'hai oggi? Sei molto agitato? Sembra che ti abbia morso una tarantola. Zia, oggi è un giorno decisivo per la mia vita. E io sono nel panico più totale. E perché sei nel panico più totale? Oggi Elisa parlava col suo ex marito e... e gli diceva di noi due. Finalmente sei decisa? Ma non sei contento? ma questa sarà una liberazione per tutti. Zia, e se parlare gli ricostasse troppo? Se si accorgesse che è ancora innamorata di lui, no? E decidesse di sbarazzarsi di me? Dio mio, è orribile. Dove rinvecchiare lontano da tutti, da mio figlio. Un maestro... vecchio, incattivito. Non ci posso pensare. Ma cosa vai blatterando? Niente, stavo solo percorrendo il lato orribile del mio futuro. Vado io, eh? Sì. Calma, eh? Calma, calma. Calma. E lui è arrivato. Ti hai aperto? No. Allora apro io. No, aspetta. Aspetta, Zia. Tu non capisci, vedi, ma da questo incontro dipendono i prossimi trent'anni della mia vita. Ho capito. E intendi passarli qui in cucina o apri? Dai, dai, vado io, vado io. Io prendo la Valeriana, intanto. Zia! Io non ho mai avuto un ex marito. Neanch'io. E sapessi come mi sarebbe piaciuto. Mi raccomando, trattalo con i guanti, eh? Con i guanti! Combinazione ce li ho. La Valeriana. Ma veramente, signora, io cercavo il maestro. Io sono la zia. Mi fa tanto piacere conoscerla. Anche a me, signora. Ma prego, sa comodi... quello che dicono di lei, eh? Una sua nipote le ha parlato di me? Praticamente non fa altro. Solo mi scusi, eh? Ho avuto una piccola delusione. Io me lo aspettavo in alto uniforme. A me piacciono tanto gli uomini in divisa. Ma guardi che io e il suo nipote ci siamo visti così appena un minuto. Ah, sì? Ah, ma la sua fama la precede, sai? Senta, che cosa posso offrirle? Non so, un pochino di champagne, un po' di caviale nel barattolo, oppure delle caramelline piene di zucchero. A casa mia c'è tutto, a casa mia c'è tutto, tutto, tutto. Come in una drogheria. Lei accoglie tutti i genitori degli allievi di sua nipote in questo modo, signora. Tutti gli allievi? Ma cosa dice? Ma che uomo pieno di verbe. Io sono il papà di Giulia Catania. Giulia Catania? Come se non lo sapessi che era il papà di Giulia? Questa, ecco, questa sono io da giovane, vedi? Sì, io qui ero ebra di champagne, sì. A proposito di champagne, lo vuole un goccio di champagne? No, la ringrazio. E un tè? No, neanche, signora, grazie. Una tisana? No, neanche. Adesso le chiamo mio nipote, eh? Ecco, vuole i miei. Ma proprio non vuole niente? No, la ringrazio. Ma cosa bevete voi, lupi di mare? I rum dei pirati? No, 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 grazie. Sare. Io e mia nipote siamo molto uniti, per me come un figlio. Abbiamo diviso le mie dolori. Ti prego. Sì. Buonasera. Buonasera. Io stavo aspettando. Ah, mi aspettava? Sì. Anche lei. Cosa le dicevo? L'ultimo evento che abbiamo atteso con intensità simile è stato l'inizio della finale dei mondiali. Sì, sì. Grazie, zia. Adesso tu vai perché noi dobbiamo parlare. È stato un piacere conoscerla, signora. Ma non mi chiami, signora. Mi chiami Zio Tiglia. È più intimo. Ah, certo. Ci preguale qualcosa da bere, zia. Grazie. Eh? Ma non vuole niente. Ecco, prego. Sediamoci. Proprio è una persona gradevole, sua zia. Prego, si accomodi. La scusi. Allora, signor Giustino. Ovviamente sono venuto qui per parlarle di mia figlia. Sì. Giulia è tutto per me. La capisco. Giulia è... è una bambina durabile. Io ci tenevo molto a conoscerla, sa? Sapesse io... E spero che saprà stare vicino alla bambina in questo momento così delicato. Vede senza nulla a togliere lei. Io amo Giulia come una figlia. Elisa mi aveva detto che lei è un uomo fuori del comune. E devo dire che ha ragione. Oh, no, no, no. Elisa esagera sempre. Io conosco molto bene il mio ruolo. Sarà semplicemente quello di un educatore. E non potrò mai essere un secondo padre per Giulia. Beh, anche perché in questo caso ne avrebbe troppi di papà. Io, lei e il futuro marito di mia moglie. Sì, ma hai contato il tuo ruolo, allora. È proprio questo il motivo della mia visita. Mia moglie non ha avuto il coraggio di dirlo a me, figuriamoci al maestro di nostra figlia. Comunque credo che abbia intenzione di risposarsi. Forse è meglio se si accomoda, cioè se si alza. No, mi riaccomodo io. Vedo che questa notizia del matrimonio l'ha turbata più di me. Allora cosa direbbe se le dicessi che aspetta anche un bambino? Eh, direi che è un pasticcio. Un vero pasticcio. Vedo che è solidale con me. La bambina non sa niente, forse ha intuito, ma lei capisce che è un momento delicato. E lei non ha idea di chi possa essere questo galantuomo? Guardi, che sia un galantuomo questo è ancora tutto da vedere. Comunque no, come l'ho detto, mia moglie non ha trovato il coraggio di dirmi nulla, quindi... Ci avrei giurato. Giurato cosa? No, dico, ci avrei giurato che era un galantuomo. Lei lo conosce? No. No, ma conoscendo sua moglie immagino che... E sei un imbecille? Sì, un imbecille. Uno che farà sentire mia figlia come un ospite in casa sua. No, no, guardi, su questo io mi sento di rassicurarla, eh. Allora lei lo conosce, scusi. Lei sa qualcosa? Non personalmente. Però ho sentito dire che è... un uomo da comportamento irreprensibile. Beh, io però non posso stare alle voci quando si tratta del futuro di mia figlia. Ha ragione. Io sono venuto qui comunque per chiederle di... di essere particolarmente paziente con la bambina in questi giorni. Ha bisogno di... sì, anche di un po' di affetto. Tutto qui. Beh, adesso devo andare perché ho lasciato Giulia da sola e... Ah, certo. Non vorrei che... Allora... Rivederci. Eh, mi scusi, volevo chiederle... Con la direttrice, cioè voglio dire con la sua ex moglie, com'è rimasto poi? Beh, l'ho avvisata che la bambina resterà con me intanto che la situazione non si sarà chiarita. Chiarita? In che senso lo capisco? Eh... Quando io conoscerò il futuro marito di Elisa, allora avrò tutti gli elementi per valutare la cosa. La bambina potrebbe avvertire tutte queste tensioni e sarebbe la prima a essere confusa, a non capire, no? Lo so. Lei pensa che io sia troppo duro, vero? No. No, no. Lei ha figli? Non ancora. Quando ne avrà capirà che non si può vivere senza sapere in ogni momento dove sono, ma soprattutto in che mani sono. Ha ragione. Bene, arrivederci. Arrivederci. Sì, grazie. Ma perché non gli ho detto che sono io? Perché sono bigliaco. Certo. Bigliaco, ma che bigliaco. Tesoro, sto arrivando con lo champagne, si festeggia. Si festeggia. Mi sembra che tu l'abbia già fatto, no? Due bicchierini, ho ricevuto la posta? Sì. Cos'è, ti ha lasciato anche questo? È l'ultimo fuoco, l'ultima passione, lo giuro. L'ex marito è già andato via? Sì. Lo credo, gli hai dato del bigliaco? No. Non dicevo bigliaco a lui. Dicevo a me. Non ho avuto il coraggio di dire all'ex marito di Elisa che io sarò il suo futuro marito. Che bigliaco. Tutto perché Elisa mi ha mi ha fatto giurare che non mi sarei intromesso. Ma no, ma tu non sei un bigliaco. Sei un... Sei una persona onesta, perché sei un uomo che mantiene la parola, no? E mantieni i giuramenti. Aspetta a Elisa e dirglielo, no? Quando sarà il posto è il momento migliore. Sai che quando bevi sei spaventosamente lucida? Solo per i primi cinque minuti, perché dopo mi accompagni in camera, eh. Però dai, non devi essere così giuro. Sì, sì, hai ragione. Però a volte è così difficile. Ma scusa. Stai per avere un bambino, dalla donna che hai sempre amato e che ti ama. Cosa dovrei dire io? Che mi rimorchiano e mi piantano dopo un mese. Quando l'hai saputo? Quando tu eri qui con Cesare, si chiamava Rosa Tatuata. Ero un alcolista, mi ha scritto il dottore per avvertirmi. Quando finirai di credere agli amori per corrispondenza? Mai. L'amore è sempre l'amore. Non si vive senza amore. So già chi è il prossimo. Chi è? Il dottore. Guarda che bella carigrafia che ha. Scommetto che mi sposo prima di te. Non ci provare. Come mai così tanti biscotti? Servono sempre. Prendiamo la farina? No, sono ma dei biscotti. Non so, prendiamo. La mia madre ci fa il pane. Davvero? La mia no. Servono i dati. Ma no, la mamma non li usa. Allora niente. Li prendi, li sa vogliarli. In certo, sì, grazie. Quanto costa mezzo chilo di prosciutto? 25.000. Mi sa che prendo la mortadella. E qual è se torta viene fatta in casa? 20.000 lire il chilo. Per quello mia madre li fa solo a Natale. Ma il latte quanto costa? 1.900. Da domani bevo solo te. La madre ha chiesto un muro per comprarti da mangiare. Mi sa, mi si. 15.000 lire, ma che stiamo scherzando. Con la stessa cifra ci compro mezzo chilo di parmigiano. Adesso hai capito che la mamma non è cattiva. È cattivo il papà di Paolino. Ma se mio padre piace i più baci di tutti. La roba costa troppo cara. No, è la vita che è cara. Su, adesso ragazzi, forza, continuate il giro. Mi raccomando, scegliete prima le cose necessarie e poi il resto. Secondo te serve il bicarbonato? Solo se c'è qualcuno che non digerisce. Io non la faccio più, la spesa mi stessa. Un litro d'olio costa più di una barba. Vagliù. Vagliù. Sono arrivato, vagliù. Ma vi insegno io come si fa la spesa. Voi dovete comprare la pasta, che è un alimento sano ed economico. Allora, lunga, lunga, corta, 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 corta. Anche i fufilli? Lunga, e metto pure il fucillo, va. A chi va la spesa che stanno facendo i bambini? A una famiglia della parrocchia di padre Andrea. Me lo immaginavo. Maestro, venga. Le ho preparato qualche extra. Guardi qua. Ah, ma lei è veramente gentile, grazie. Ah, io sarò sempre in debito con lei. Che fai il 15 aprile? E non lo so perché. La signorina Claudia diventa signora. Finalmente ci sposiamo. Ma questa è una bella notizia. Sì, verrà il matrimonio? Ah, beh, certo che vengo, come no. Anzi, sa cosa le dico? Che forse ricambierò l'invito. In che senso? Don Saver, ci faccia la dolorosa, che poi sarebbe oculta. Ah, beh. Beh, adesso è un po' difficile da spiegare. Ma Paolino è contento, sì? Beh, veramente a Paolino ancora non gliel'ho detto, sa? Non ho trovato il modo. Non è facile affrontare certi argomenti con i bambini. A chi lo dice? Beh, veramente volevo dirlo proprio a lei. No, no, no. Io pensavo... Pensavo a Giulia. Piano, su, dai! Almi, lei pensa che Giulia potrebbe dire a mio figlio? Beh, ma non lo so, sono un po' confuso in questo momento. Lo dico ai bambini, la spesa. Comunque non si preoccupi, eh. A Paolino glielo dirò io. Grazie. Grazie di buono. Niente. Oh, allora, bravi ragazzi, io direi che ma sì, va bene. C'è anche il resto, eh? Il resto? L'uovo, ti ho sentito prima, sai? Così non direi più che sono caro. E invece te lo dico ancora, sei proprio caro. Brava! Scusami, guarda, scusami, non ti arrabbiare? Non ce l'ho fatta, Gesù, ma Cesare... E infatti gliel'ho detto io. Ieri è venuta a casa mia. Cosa gliel'hai detto? Ma perché sei così terrorizzata? Guarda che devo solo dirgli che noi due siamo innamorati, sai? Mica che spaccio cocaina. E comunque no. Voleva solo parlare col maestro di sua figlia. È che sono... Sono molto, molto confusa, molto confusa. Cosa vuol dire? Come che vuol dire? Vuol dire che ho paura. È... È naturale, sai? È naturalissimo aver paura. Anch'io ogni tanto ho paura, Elisa. Soprattutto di ferire gli altri. Per questo che glielo devi dire. Perché non è giusto né per noi né per lui. Il problema è che non so come dirglielo. Ecco. No. Tu non sai come dirla te stessa. Elisa. Elisa, questa è la tua vita. Ricomincia da capo, ricomincia da me. Perché vuoi tornare indietro, eh? A proposito di tornare indietro, volevo dirti che tendi a fare con Claudio e te. Ma perché? Ma perché cambi discorso, dico io. Perché voglio una risposta? Non penserai mica che beva la storia tua della perdita di memoria, vero? Sei di Claudio un ragazzo intelligente, un ragazzo in gamba. Ha solo avuto sfortuna perché ha trovato degli insegnanti che... Che non capivano niente, guarda. E te vuoi trasformare la tua classe in un corso serale. Non c'è età per imparare. Claudio ha talento. Ma non lo vedi che è sprecato e dato il bancone, eh? È creativo, è intelligente. E io voglio che continui a studiare. Stefano, te non puoi prendere un ragazzo già grande e catapultarlo in una classe di bambini. Intanto sarebbe frustrante per lui. E poi disorienterebbe ragazzi. Per adesso li fa ridere. E li sprono a non perdere tempo. Il tempo lo stai perdendo te, lasciando indietro il programma per rimettere in corsa un... Un potenziale liceale, Stefano. È un liceale effettivo. E te lo dimostrerò con i fatti. Non nelle aule di questa scuola, comunque. Ok, ti prendi in parola. Che vuoi dire? Non lo dico neppure a me stesso tutto quello che voglio fare, figurati se lo dico a te. Lo voglio sapere io. Allora, sentiamo, cosa vuoi fare? E tu cosa vuoi fare con Cesare? Che fai a cambiare discorso te adesso? Eh? Ha cambiato discorso. Allora glielo dici a Cesare? Senti, dopo domani sera, prima che parta... Andiamocena fuori, ci vediamo così glielo dico. Di parola di lupetta. Ma non sono mai stata una lupetta io. Senti, tu sei innamorata di me, per cui sei una lupetta acquisita. Ok. Dillo, parola di lupetta. Parola di lupetta, che intendi fare con Claudio? Mi spiace, ma un capobranco non è tenuto a dire tutto una lupetta. Ci vediamo, eh? Ma, Stefano! Sì, 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 lo so, lo so. Mi amo. Sì. Io vorrei sapere perché ha fatto il Boy Scout. Noi ce ne andiamo al mar, noi ce ne andiamo al mar. Ciao Claudio, caffè macchiato con l'arte. Ci andiamo per studiare, è una gioia. Ma va al mare in orario scolastico? Sì, e ci vado pure io. E il mio caffè? Ma lasci perdere, che è già così nervoso. Senti, non fare così che è un diavolo per capello, eh? Ma se di capelli non ne ha più. Fulvio, per favore, una camomilla, presto! È una gioia andare al mar. Noi ce ne andiamo al mar, noi ce ne andiamo al mar. Ci andiamo per studiare, ci andiamo per studiare. Su, 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 su. Andiamo al mar, andiamo al mar. Ciao Claudio. Presto, ma che è vacanza? Ma non è vacanza, stiamo andando in spiaggia a fare una bellissima lezione sui fossili. Oh, che tristezza, i fossili sono pesci morti. Perché invece non facciamo una bella lezione sui pesci vivi? Io sono un esperto, la spiego io. Sì, 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 sì. Bene, va bene, calma, 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 calma. Ok, ma avete convinto? Vi presento il vostro nuovo maestro, va bene? Ok, nulla osta. E va buono, ma è, ma arriviamo fino a Ostia. Che lo sta vicino a Roma, l'ho imparato con la tombola io. Claudio, Claudio, nulla osta, vuol dire nulla vieta, nessun ostacolo si può fare. Vigualio, tu sei una gamba d'osta, eh? Ma è lasciato stare, napoletano mocca a voi, namunnezzi. Namunnezzi? A me? Cioè io non parlo bene napoletano. No. Muovaci, mambre! Mambre! Ciao! I pesci mica sono tutti uguali. Ci sono le razze, come per gli esseri umani del resto. Ci stanno i pesci cani che sono cattivi. Poi ci stanno i pesci spada e i pesci martello, che sono sempre innamorati. E se vedono il pesce spada femmina catturato nella rete dei pescatori, si fanno catturare e uccidere pure loro. E questo è amore, non c'è che dire. Poi ci sta la ragossa, che è terribile. Cane non mangia cane, ma ragossa mangia ragosta. Chiedetelo a mio zio che c'è un ristorante a Napoli con l'acquario. Quelle che stanno nell'acquario a volte si mangiano tra di loro e arrivano nel piatto che sono già morte. Certe volte mio zio il contoglio lo dovrebbe far pagare alle ragosse, no ai clienti. Ma quelli pesci sono come noi. Pensate che ci sono dei pesci che pure mentre dormono si devono muovere, come gli squali. E invece quelli che sanno sta cuietto e cuietto in coppa fondale. Le sogliole per esempio, che lo guardano con occhio solo, come la candid camera. Ma voi sapete perché le sogliole si chiamano così? No! Perché deriva dal latino solea, che vuol dire suola. Allora se uno si mangia una sogliola è come mangiarsi uno scappa. Ma no, che c'entra? Poi ci sono le polpesse. Le polpette? No, le polpesse sono le mogli dei polipi. Beh, a quelle pure se gli hai tagliato un tentacolo, dopo gli ricresce, come la coda delle lucertole. Eh sì, ce ne sanno proprio di tutti i tipi. Il mare è come una grande zuppa di pesce, però di pesce vivo. A me non piace il mare quando è calmo. E perché non ti piace? Perché sembra una minestra con quell'acqua così caldina. Ma no, nel mare ci sono i bagnanti. Certo no, quella è la pastina. Come l'hai spiegato bene? Sì, è stato molto bravo il nostro Claudio. Ci ha fatto veramente una bella lezione. Ti è piaciuta? Sì! Bene, adesso facciamo un'altra cosa. Andate lungo la spiaggia e cercate delle belle conchiglie. Poi domani mattina a scuola ne parliamo. Pronti? Via la caccia aperta! Sì! E' pazzesco! Tu quando parli del mare parli addirittura il latino. Poi appena metti i piedi per terra è un dramma. Ti dimentichi persino in italiano. A me il rombo del mare mi fa impazzire. Vuole dire rumore. No, no, proprio il rombo dell'aliscafo a sei ali portanti. A sei ali portanti. E oggi ci pagherà qualche cosa? No, 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 anzi. Sei molto competente, eh. Il mare ha vita mia. Già quando costruisco i modellini mi sembra di navigare. Ma perché costruisci i modellini tu? Sì. Ma è bellissima. Ma questa come l'hai fatta? Ma con gli stuzzicadenti? Eh, io quelli c'ho al bar. Di tre tipi. Fini, grossi e piatti. Quelli piatti sono perfetti per fare il ponte della nave. La nave di Magellano era così. Oddio, più o meno. Senza sabberevo capello poi. Poi l'ho fatta anche con la pasta di mandorle e con i tappi di sughero. Bravo. Claudio, tu sei bravissimo. Eh, i modellini sono sfiziosi, ma non sono precisi. Ah, ma eh. Ma vi faccio vedere una cosa. Questa, vedete? È la mia prima barca. Oddio, ora è un po' vecchiotta, però è un bel ricordo. Questa invece non l'ho fatta io, però è bellissima. Questa l'ho fatta io e pure questa l'ho fatta io. Ah, poi queste le ho dipinte io, tutte e due. Il mare è la vita mia. Non so che farei per portare una barca. Ah. Ebbè, una cosa ci sarebbe. Dovresti tornare a scuola. Ve l'ho detto già, non tenga capa. Tu capisci o no? Ma tu la capa la tieni, la tieni e come la capa? Magari coi capelli un po' lunghi ma la tieni. Claudio, ascolta, mi vedi tu. Tu hai una passione, capisci? Ed è la cosa più importante nella vita. La passione. Ma non ti piacerebbe diventare un capitano, eh? Ma vuoi stato pazzi, Anna? I capitani parlano italiano, non si impicciano con i verbi, leggano mappe, sestate, eh. Sì, 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 va bene, va bene, lascia stare i verbi, poi li impari, non è un problema. Dico, ma le altre cose le sai già fare, no? Scommento che sai leggere sestate. Eh, lo sai leggere sestate, sì, eh. E la bussola? La sai usare, la bussola? Ah, la bussola è facilissima. Ah, è facile, benissimo. Allora, se è facile, sarà facile per te risolvere questa piccola espressione. Ma comunque che ha già fatto? A nascolto che creature riesci, Anna? Ah, beh, tanto tu tutte le mattine mi devi portare l'acqua, per la mia medicina, per la memoria. Allora, dieci, per, aperta parentesi, cinque, più, quadra, tonda, otto, più tre, chiusa, per, sette, meno quattro, chiusa. Senti, il risultato ve lo puoi scrivere qua in fondo, va bene? Le espressioni, no, Dio me ne scampi e liberi. Eh no, liberi, mi dispiace, tu non ti libererai così facilmente di bene. Capitano? Per ora il capitano sei tu. Carlo non mi ama più. Io sto soffrendo, sono isterica. Tu ti ricordi le mie belle unghie? Tiè, guarda che cosa è rimasto, nulla, le ho mangiate in un secondo. Che percato. La notte, invece di venire a letto, chiude il gabinetto. Le ore ci sta, le ore. Io all'inizio pensavo che ci avesse qualche attacco di colite, di dissenteria, ma che sta benissimo, mangia come un lupo. Poi verso mezzanotte, quattro, quattro, si ficca sotto le coperte con un libro. C'è una voglia di leggere. Ma che? Se lo mette in testa. In testa? Sì, sì. Dorme con un libro in testa, trattasi per la precisione di guerra e pace. Io adesso non so se tu sai quanto pesa guerra e pace in volume unico, vero? Non so se ci sono questi nuovi metodi per leggere velocemente. Elisa, per cortesia, cerca di capirmi, non difendere sempre lui. Io ti sto semplicemente dicendo che secondo me c'è un'altra. Si, piano però, te la piano con i miei capelli, eh. Io non gli piaccio più. Hai capito? Io, proprio io, un esteta, un estetista, esteta. Sto sempre a far belle a tutte quante. Tutte faccio belle e non penso mai a me. Mai una volta che io pensi a me stessa. Sì, piano, però adesso faccio io. Mai ho pensato a me stessa io. Nella mia vita, mai. Guarda come mi ha combinato. Non ho pensato mai a me. Sempre alle altre. Che non gli levi quel libro dalle mani e non provi a parlarci, invece piartela con i miei capelli? Mi pare facile parlargli con un marito. Eh, con un ex invece. Io bisogna anche fargli con Cesare, una di queste sere, glielo devo dire, eh, che è di Stefano. Beh, non ti invidio. Mi fai bene. Ma comunque hai ragione. Noi dobbiamo prendere il coraggio a quattro mani e affrontare la situazione. Io quasi quasi stasera sai che faccio? Mi strappo quel libro dalla testa, lo riempio di baci e facciamo prima la guerra e poi la faccio. Brava, guarda. Quasi, quasi, guarda. Stai proprio bene. Come sto? Sta bene, stai. Sì, sì. Stato bene? Benissimo stai. Allora, fammi andare, vai. Quanto, quanto ti devo? Cosa? Sei mia cognata, da te non voglio nulla. Veramente non sono ancora tua cognata. Per me lo sei già. Ehi, ma lo sai che stai benissimo così? Davvero dici? Ti devo pettinare sempre così a te, ricordamelo, eh. Vabbè, allora, grazie. Eh, grazie a te. Tranquilla, eh. A presto, ciao. Ciao, Monica. Divertiti, eh. Eh, vedo che si può fare. Ciao. Mai a me stessa ho pensato io. Mai. Mai una volta a me stessa. Ah, ah. Ma da stasera cambia musica, eh. Ah, sì. Mi spiace. E vi porto anche delle noccioline. Arrivo subito. Voglio la carta costa. Eh, papà. Ciao, Claudio, come va? Buongiorno. Ah, ma è stato qua. Mm, come va? Eh, è una schifezza, ma è. Con queste espressioni sono una scena pazza. È inutile, non ci riesco, non so togliato. Io ci rinuncio, ma è. Ti ritiri, eh. E rinuncio. E sbagli. Sbagli perché le espressioni sono facili. Ti faccio un esempio così capisci, no? Allora, mettiamo il caso che qui arrivino quattro suore. Cioè, insomma, quattro pinguine, come dici tu, no? Che vogliono cappuccine e brioche. Tu cosa fai? Eh, prima sommo cappuccine e brioche e poi lo moltiplico per quattro. Ah, questo... Buongiorno. Ah, buongiorno. A questo servono le parentesi. Prima devi sommare e poi moltiplicare. A questo servono le parentesi, Claudio. No, ma io con carta e penne mi impiccio. Non ci riesco, mi viene come l'asma. Quando facevo gli esami mi veniva il fiatone. Mi sembrava di correre stando fermo. Mi veniva da svenire. No, e quelli lo sapevano e proprio per cui lo mi hanno bocciato. Ah, buongiorno. Vabbè, nuovo porto il caffè, va? Svegliate questa tanzione delle caffè, signor Maestro. Ah, grazie. E lasciate perdere che è meglio. Scusate, ma il destino di Claudio è qua. Di entra al bar. A spezzarsi la schiera come al suo padre. E lei si sbaglia invece. Perché vede Claudio ha un talento che dovrebbe coltivare. Sentite, io non voglio che nessuno metta dentro alla testa di mio figlio delle idee che sono solo sogni irrealizzabili. E poi lo fa soffrire. È chiaro? Mi sei spiegato? Un caffè per favore. Il caffè è finito, c'è la carestia. Ma sono impazziti in questo bar. Allora prendo il tuo. Ma che fai, mi bevi il caffè? Sì, Stefano, scusa, ma mi devo ritemperare. Ho la mano tutta anchilosata. Ho fatto più di trenta multe oggi. E poi ho litigato con un bell'imbusto alto pieno di capelli. Ma stai calmo, calmati. Ma non lo vedi che se è sudato sembra una fontana? E poi togiti sta padella dalla testa. No, no, fermo. Fermo, che il sudore aiuta. Ma aiuta a far che? Va perché se ha dieta. Effetto serra. Effetto che? Il calore gli aiuta a ricrescere, no? Ma che cosa? I capelli. Perché tu sei convinto che i capelli ti ricrescano... Gli ho seminati, gli ho seminati. Ma cosa? I capelli. Carlo, ascoltami bene. Tu avrai anche seminato i capelli, no? Però ti sei perso il cervello, sai? Guarda che io i capelli non li ho ancora persi. Sono solo un po' avviliti. Ecco. Tu vedrai quando si riprenderanno. Ricresceranno rigogliosi come una foresta tropicale. Guarda, ho messo una lozione al cadrame. Ultra rapida, vedi? Vedi? No, sento, più che altro sento. Mamma mia che puzza. Ma che ci hai messo? Senti, ma come fa a starti vicino Monica? Stefano, hai ragione. Infatti per questo problema la evito. Passo tutta la notte in bagno a frizionare la cute sotto la lampadina. E beh, certo, ma perché se effetto serra, no? Sì, basta che il processo cominci. All'inizio germogliano, poi diventano come pao-pap. Ma perché ti accanisci così, Carlo? Ma tu sei bello lo stesso. Bello. Bello non sei mai stato, neanche quando avevi capelli, eh? Stefano, tu non sai quello che vuol dire? Alzarsi la mattina e vedere i propri capelli morti, stecchiti sul cuscino. Poi con quello con cui ho litigato lì davanti all'Accademia Navale. Faceva così il che era da asso con tutta quella cliniera. E allora che fai? Prendi a schiaffi tutti quelli che hanno i capelli lunghi? Aspetta un po'. Accademia Navale, hai detto? Sì, il capellone voleva traccare accanto ad un segnale di sosta vietata. E voleva pure avere ragione. E lo sai perché? Perché portava la divisa. Allora io le ho detto, se lei è capitano, io sono vigile. Lei è divisa, divisa anch'io. Lei conterà pure qualcosa in alto mare. Ma qua, sulla strada, comando io. Capitano? Sì. Alto? Sì. Un bell'uomo? Sì. Hai detto Accademia Navale? Sì. E Cesare? Ma che ne so io quando devo picchiare una persona, mica gli chiedo come si chiama. Oddio, perché l'hai picchiato? No, ma volevo farlo. Ma sei pazzo? Quello è l'ex marito di Elisa. Ecco, lo vedi che dovevo farlo? Ma mi vuoi proprio rovinare? Io sto facendo di tutto per diventare amico e tu me lo picchiati. Aveva parcheggiato come un pirata. Ma non è un pirata. È un capitano. Capisci? Un capitano. Un capitano. Accademia Navale, capitano. Ma che scemo. Ma che scemo che non ci ho pensato prima, certo. E lui può aiutarmi, capisci? Lui può aiutarmi con Claudio. Capisci sì o no? No. No, eh. Vabbè, lo stesso. Ciao. Ah. Ah, senti. Se tu avessi un altro figlio, no? Come lo chiameresti? Ultimo. Ultimo? Sì. Grazie dell'aiuto. Ecco qua. È finita la carestia. Dica tanto, ti ho fatto la multa. Alla macchina mia! Alla macchina mia! Ciao Giulia, come stai? Bene. Bene. Senti, cercavo tuo papà. È lì in parlatorio. Sono contenta che sei venuto a trovarlo. Ti è simpatico il mio papà? Sì, molto. Anche tu lì sei simpatico. Tu pensi? Sì, me l'ha detto. Lo sai che forse mamma si risposa? Ho sentito papà che lo diceva mia nonna al telefono. Ma io già l'avevo capito. E cosa ne pensi? Se si sposa con uno simpatico sono contenta. Magari uno che sia simpatico anche a papà. Speriamo. Maestro, qual buon vento. Buongiorno. Lei stamani ha avuto, come dire, una discussione con un vigile davanti all'accademia, no? Sì. È il mio cognato. Ah, quel vigile è il suo cognato. Beh, certo che è un tipo un po' collerico. Infatti sono qua per portarle le sue scuse. Sta passando un brutto periodo, poverino. Non si preoccupi. Però è stato un bene, sa. E sì, perché mi ha fatto pensare a lei, capisce? E allora mi sono detto, adesso vado in accademia. E chissà che non mi sia d'aiuto. Ah, certo, mi dica. Si tratta di un ragazzo, no? Sa tutto di mari e di bar, che le conosce come le sue tasche. Io sono un semplice maestro, quindi non ci capisco niente di navigazione. Invece lei è un comandante. Chi meglio di lei potrebbe dirmi se... se è il caso che il ragazzo faccia prima il bienio di scuola superiore. E poi dopo, non so, farlo concorrere per la missione al collegio Navale Morosini di Venezia. E poi in futuro potrebbe venire qui all'Accademia Navale, no? Certo, perché no? Potremmo organizzare un colloquio, se crede. Eh, sì. Se lei fosse così gentile da venire a scuola in settimana. Sabato, per esempio, ecco, io glielo presenterei. Sabato... Ha da fare, eh? Sì. Ho un appuntamento con la mamma di Giulia. Ah, ma guardi, per l'ora di cena lei sarà libero, eh? Eh, non sarà un momento facile. Preferirei venire a cena con lei, mi creda. La prendi in parola. Che sarà quest'ora? Non lo so, io non lo aspetto nessuno. Io sì, io aspetto una lettera, sarà il postino. Vai a vedere? Sì, adesso fanno servizio notturno, eh? Può darsi. Può darsi. E io non lo sopporto. La nozione dei capelli. Sì, a papà infatti gli cadono un po' di capelli. Quei pochi che hai in testa. Senti, ascolta bene adesso... Ma c'è tesoro! Ma mamma, dov'è? Sono Lara! Ah, calma, mettetevi lì che ci penso io. Faccio tutto io. Senti, racconta tutto, tutta la zia, tutto, eh? Tutto, amore, dimmi. La bambina è qui, eh? Oh, Dio, ti ringrazio. Allora chiamala, per favore, così la riportiamo a casa. Non ci penso neanche. Cosa? Prima trattiamo. Trattiamo. Io non ce la faccio più con voi. Se volete potete discutere dalle otto di mattina fino all'una, quando io sono a scuola. Ma noi lavoriamo a quell'ora. Io mi domando, ma a voi non passa mai per la testa l'idea di non litigare? Mai? Eh, mai. Sennò non ci torno più a casa. Non dire così a papà. Scusate, anche qui c'avete problemi di tubature? No. Di tubature? No, perché? Questa zia è l'odore errando di quando litigano. Carlo. No. Tu adesso spieghi tutto. Altrimenti io ti faccio uno shampoo al diservante con le mie stesse mani. Sì. E va bene. Sono io. Tu? Papà! Sì, Monica. Non è vero che io non ti amo più. Io ti evito la notte perché sto facendo questa maledetta cura al catrame, capisci? Perché non sopporto di diventare calvo. Ma amore! Un vicile calvo, capisci? Un marito calvo, un papà calvo. Se vuoi papà mi togli i capelli e te ne attacco un po' dei miei. Tesoro, ma cosa devo sentire? Avevi paura di non piacermi più. Ma non lo sai che io impazzisco per gli uomini pelati? Si vede il cranio lucido con dentro il cervello che pulsa, che guizza. Monica, per favore, io non sopporto che tu dica quella parola, va bene? Pelato! Perché una patata è pelata, un pomodoro è pelato, ma non un uovo, capisci? Scusa, 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 non lo dirò più. Ma stai calvo. Beh, adesso è tutto chiaro, no? Sì. Topolino, andiamo a letto? No, prima voglio un fratellino, così ho qualcuno con cui litigare. Tesoro, ma puoi fare benissimo anche con un cuginetto. No, voglio un fratellino subito. E va bene, va bene. Adesso papà e mamma vanno a casa, tu resti a dormire qui con me, e così mamma e papà cominciano a pensare di fare un fratellino. Ma zia, ma come facciamo? Tu sai quanto costa mettere allo mondo un figlio oggi? Vabbè, cominciate con la prima rata, no? Zia, sei troppo forte, la prima rata! Hai sentito? Sì. Forza, andiamo, dai. Ciao, stessa. Ciao, prima rata. Grazie, ciao. Ciao, zia. Ciao, ciao. Tesoro, ti passo prendere domattina per andare a scuola. Ciao, amore. Sì, ti rispondi. Guarda, no. Ma cosa facciamo? No, ci mettiamo in pizzerone. Poi se io non vuoi dormire del sole, dormi con la tua zia, eh? No, ma è impossibile. Io là non ci voglio venire. Ma insomma, ma avevo volito mettere in te la capa che il mio destino è caino a stu barri. Ah, ma è... Ma vi devo lasciare, c'è gente fuori. Arrivederci, anzi, addio. Volete qualcosa, signori? Non mi devi dare del vuoi. Io mi chiamo Cristina. Ha tanto piacere. E tu come ti chiami? Uh, che stupido. Io mi chiamo Claudio. Sono contento di esserci presentato. Ma vi vole... Ti volevo parlare. Magari un'altra volta. Sta arrivando un mio amico. Ma amico come? Cioè, quanto? Amico quanto? Ma come parli? Parlo con vocabolo a riloporo. Ah, eccolo. Tommaso? Tommaso. Tommaso è un bellissimo nome. Tommaso, basta guardare gli apostoli. È penultimo in classifica, subito prima di Giuda. Che scemenze. Ciao, Tommaso. Lui è Claudio. Piacere. Fortunatissimo. Ti ho aspettato per ordinare? Scusa se l'ho fatto tardi, ma ho dovuto prendere i biglietti per il teatro. Ah, che vai a vedere? Giulietta e Romeo, sono gli ultimi due giorni. Mi ho preso uno anche per te. Che bello, grazie. Eh, ma buono, ma anche fosse un biglietto alla lotteria. Ma poi chi sarebbe questa Ginetta e Romeo? Ginetta e Romeo, ma cosa dici? Si dice niente Shakespeare. E credo Shakespeare per fare i cocktail. Cameriere, scusa, ci porti due aranciate? Senti, tu a me cameriere non mi chiami. E come ti devo chiamare? A me mi ha chiamato capitano, capite? Capitano. Ma dove va? Ma, va che a fare i compiti. Va che a studiare. Ma Rola, chi sta prima scappava per non fare i compiti, ma scappa per fare i compiti. Il suo maglione è fatto proprio tutta la rovescia. Voglio sapere tutto, tutto, tutto su Ginetta e Romeo, sullo Shaker, sulla storia, la geografia, la biologia, l'astrologia, tutto, sui presenti, passati, futuri, remoti, ma remoti, tutto. Va bene. Per Shaker tu intendevi Shakespeare, no? E per Ginetta Giulietta e Romeo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' qui. Dovrei avere Pirandello. No. Goldoni. Pirandello. E ma deve essere qua, eh? Eccolo. Shakespeare, tutte le opere. Allora, Riccardo III. Vediamo le perdute, Carlo II. Giulietta e Romeo. Lo voglio leggere tutto stasera. Sì. Deve essere lui, è già arrivato. Chi? Bene, ti presento il capitano di Mascello, Cesare Catania. Secondo me. Ma lei è un ufficiale. Sì? Stavate studiando? Sì, letteratura. Bene, bene, non ne fatti pure, non voglio disturbare. No, 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 anzi, è... Accomodiamoci, prego. Prego. Oddio. Il fiatone, l'aria, il sovvenimento. Chiaro, ma non... È mica un esame, no? Certo. Il comandante è un amico. Dai, leggi qua in fondo, su. Fondo pagina, qui. Ma io leggo male, c'ho l'accento scamuffo. Ma tu traducilo in napoletano. Un momento, ma lei conosce anche il napoletano? Ma sì. Tutte le lingue delle città che hanno un porto, più o meno, sai, le conosco. Su, dai, lì in fondo, dai, il dialogo tra Benvolio e Romeo. Quando dice O sonno, che ha gli occhi sempre aperti e sonno non è, questo è l'amore che sento. O sonno, che tene sempre l'occhio aperto senza essere mai sonno. E questo è l'amore che sento. Suona quasi meglio così. Sì. Mamma mia, com'è bella. Ma i libri possono essere sempre così belli. È bella come una nave a palo. Una nave a palo? È la mia preferita. Ah, quindi navigazione a vela. Senti, parlami un po' di questa nave a palo. No, è troppo facile. Allora, dillo, no? Ok, nave a palo. Lunghezza a metri 91,50. Larghezza o baglio a metri 15,24. Immersione 7,30, portata a 4.700 tonnellate. Equipaggio 25 uomini. E distanza a Londra-Melbourne, 70-100 giorni. A seconda dei venti. Bravo. Eh, mi fa piacere la tua passione per la lettura. Perché di libri come questi dovrai ingoiarne parecchi se vuoi diventare un buon capitano. E all'Accademia Navale, con lo studio, non si scherza. Mi manda all'Accademia Navale? Sì. Domani parlo con il direttore dei corsi. E sarebbe il caso che ci venissi anche tu. Possiamo darci del tuo? Certo, è un piacere. Bene, adesso purtroppo io devo andare. Ho un altro impegno. Signor Sisse, cioè, volevo dire, certo, signor Ameraglio. Io ti accompagno, Cesare. Sì. Grazie, grazie veramente per Claudio. Sei stato un vero amico, eh? Figurati. Quella ragazza ha una vera passione per il mare. E sai, Marina, abbiamo bisogno di giovani così. Sì. Beh, sicuramente è rimasto volentieri, ma... Pare che questa sera finalmente Lisa si sia decisa a dirmi chi sarà il suo futuro marito. Finalmente. Allora, e speriamo che sia un uomo in gamba e non il solito imbecille. Invece è proprio un imbecille. E tu come fai a saperlo? Sono io. Sei tu? Sì. Io sono il futuro marito di Lisa. Nonché maestro di Giulia e padre del bambino. Finalmente l'ho detto. Ma sai che certe volte quasi quasi l'avevo capito? Prendimi a schiarti. Non ce la faccio, mi sei troppo simpatico. Anche tu. Che cosa devi fare adesso? Niente. Claudio deve studiare e io... Perché? Dai, dai, dai. Su, forza, vieni con me. Ma come? A cena con Elisa? Beh, tanto non sarà la prima volta che vai a cena con Elisa, no? Sei veramente forte, Cesare, sei. Sul serio. Io non capisco come tu possa essere ancora solo. Infatti, non lo sono. Cosa vuoi dire? Che anch'io dovrei annunciare il mio fidanzamento. Sì, una... Una ragazza che ho conosciuto durante una crociera sul Bosforo. Ah, ma... E perché non l'hai detto prima? È fantastico. Perché in questi anni forse sono stato un po' vigliacco. Sai, non è facile dire certa cosa. Non dirlo a me. Adesso dobbiamo dirlo a lei. Ce la faremo. Ma? Eccomi! Arrivo! Ciao, Cesare. Giulia è quasi pronta, eh? Io ho fatto per notarvi già il ristorante. Ah, guarda che devi far raggiungere un posto, eh? Perché chi? Ho portato il mio attendente. Il tuo attendente? Buonasera. Stefano. Ti presento il tuo futuro marito. Ma siete tremendi, avete fatto tutto da soli voi. Mamma mia. Beh. Però io ho un po' paura, eh? Ma come adesso hai paura? Beh, se tu sei stata capace di lasciare un uomo in gamba come Cesare... ...chi mi assicura che non mi lascerai? Dani! Oh, Giulia! Papi! Ciao, amore. Ciao, come stai? Wow! Come sei bella. Mamma mi ha detto che questa sarà una scena molto importante. Sì, mamma ha ragione, è una scena molto importante. Infatti, volevo dire... che questa non viene con noi a cena? Eh, sei contenta? Guarda che io sono contento. Eh sì, anch'io. Allora siamo... siamo tutti contenti, no? Ecco, vedi Giulia, io volevo dirti una cosa, eh. Avrò un fratellino. Ragazza, è stata dura far finta di non saperlo per tutto questo tempo. Ma ora sono felice. Vabbè, noi andiamo, eh. Mì, ho un sacco di cose da raccontare. Madre, vero. Ho conosciuto un bambino che si chiama Salvatore. C'è un fidanzato? Ma no. Così me lo portate lì? Ma facete partire? Ma no, no, non partirà. Sì, sì, parlate buono. Stia calmo, stia calmi. Deve ancora studiare per cinque anni. Se il ragazzo ne stava. Possiamo aperte la tavola calda. Papà, avremmo potuto aprire. Ma che fai, correggio a tuo padre? Voi stato ciuccio tutta la vita e ora fai il maestrino della penna russa. Ma come papà, quando ero ciuccio non ti aveva buono? Ma che ingarra quattro verbi? Ma anche te va buono. Ma che ha già fatto? Tonino, Claudio guadagnerà molto più di adesso. Lei potrà riposarsi oppure, che ne so, allargare il bar. Sentite, io vi prego di non offendere la mia intelligenza. Papà, omare la vita mia. Io voglio diventare un ammiraglio. Eh già, sa che bellezza. Facciamo un bar e un ammiraglio. Eh, e invece è una bella idea. Il bar dell'ammiraglio, perché no? Poi sai cosa le dico Tonino? Che lei, eh sì, soprattutto di profilo. E lei ricorda l'ammiraglio Nelson, come no? Ma lei lo sa l'ammiraglio a che età è entrata in marina? A dodici anni. Veramente? Eh sì. E allora, vedete che dovete fare per far entrare questo fesso? Viene dall'istituto Morosini. Grazie papà. Pensate che ce la farà maestro? Eh, sono sicuro. Ciao papà. Vieni a capo di chiù. Senti, tu non devi avere paura. Se non ti piace più il mare, se non ti piace più la marina, non fa niente. Ci stai sempre papà a tutti. Grazie. E se non diventi capitano, non ci pensavo. Però secondo me lo diventi. Sì. Diventi il capo dei capitani. Come è il bene, ma io. Anch'io papà. Ma a te ne caggia la piazza. Beh, andiamo eh. Arrivederci. Arrivederci. Sì, signor maestro. Sì. A questo punto io vi dovrei dire grazie. Ah. Ma io sono un uomo ignorante, non so capace. Magari un'altra volta. Non si preoccupa. Facciamo tante cerimonie, se no fate da... Arrivederci. Arrivederci. Secondo te viene meglio bianca o blu? Qualcosa. Ha scritto. A quale scritta? Al bar dell'ammiraglio. Gesù, come hai schiarato questa giornata? Vai dentro, che dobbiamo cominciare a lavorare. Si deve mettere a pressione una macchina. Vedo che i segnalatori hanno già firmato. Prego. Firmiamo pure qui. Dove? Qui, prego. Tutto a posto, comandante. Prego. Bene. Benvenuto. Benvenuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti piacciono? Sì. Sono allievi del primo corso. Adesso a passo da riva. Preparati perché presto toccherà a te Claudio. E ti voglio vedere quando sarai capitano. Anc'io. 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 Questo è il nostro piccolo museo. Chi va per mare imbarca acqua. Chi va per mare imbarca acqua. Ma che dici? Beh, Cesare si è, come dire, imbarcato in una storia. Ma dai. Sì. Sì, sai, non si può rimanere soli e anche io ho trovato una persona la quale tengo molto. Beh, un giorno ve la farò conoscere, eh. Bene. Comandante, a presto. Grazie. Ciao, papà. Ciao, amore. Beh, sono proprio contenta, eh. Anc'io sono felice per te. A presto. Ciao. Beh, grazie di tutto, eh. E tu mi raccomando, eh. In gamba. Su. È ora di andare. Ciao, di voi. Ciao. A te, ciao, ciao. È andata bene, no? Ciao, ciao. Sì, direi proprio di sì. Come stai? Ma non è la sua, ma di Robertino questa qua? Sì, ma adesso è anche la fidanzatina di Claudio. Ma dai, davvero? L'amore fa miracoli, eh? Ma pensa. È tantissimo, dobbiamo correre lì. Dove? Dunque Giulia sa che presto avrà un fratellino. Lo sa il tuo ex marito, lo sa tutta la tua famiglia. E quindi non rimane che avvisare... Chi? Tutta la mia classe. Ma non c'è mica scuola ora. Infatti non ci aspetta la scuola. E dove? Giulia. Vieni qua un attimo. Credo che i ragazzi desiderino rimanere un attimino soli, eh? Va bene, salutaci. Ciao, fidanzatini. Ciao. Ciao. Io sono veramente felice che siate tutti qui. Sì, perché... Perché ho da darvi una bella notizia. Ecco, tra due mesi. Due e mezzo. Sì, due e mezzo. Avrete un nuovo amico. Ecco, mettiamola così. Tra circa cinque anni e mezzo, no? Sei anni circa. Dove siete adesso, voglio dire, nei vostri banchini, siederà questo nuovo bambino, questo nuovo amico e di cui ancora non sappiamo il nome perché non è facile sapere il nome di un bambino come lo chiamiamo. No, 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 non lo so, non lo so, lo stiamo cercando, i nove mesi della gravidanza servono anche a sapere come lo chiamiamo il bambino, come lo chiamiamo. Ecco, allora io pensavo che questo, questo, che questo... Bambini, ma perché vi distraete? Ma per forza si distraggono, amore. Guarda, se fosse stata una lezione sarebbe stata la spiegazione meno chiara della tua vita. Amore, io sono troppo emozionato, non ce la faccio, provaci tu. Eh, io sono quella d'alta, sì. Un momento. Ah, bene, Giulia deve dire una cosa, sì, sì. No, Paolino ve la deve dire. Dicci, Paolino. Ecco, queste, queste sono le mie prime scarpine da ginnastica, volevo regalarvele perché sono molto comode. Grazie, Paolino, ma com'è, com'è fatta? Sono molto carina, eh. E questo è il mio primo vestitino, mi sa che al vostro bambino gli andrà bene quando avrà almeno un anno. Ah, sì, sì, penso anch'io. Ma sono bellissimi, ma come, ma come avete saputo? Eh, è un segreto, maestro, non te lo possiamo dire. Beh, beh, devo dire che sono i più bei regali che abbia mai ricevuto. Sono sicuro che avrà le idee chiare e tifferà per la Fiorentina. Hai ragione, sì, sì. Infatti. Grazie. Ecco, io, dopo tanti vestiti, mi sono permesso di portare la mia armonica, così imparerà a suonare. Grazie, la musica poi è così importante. Io avevo soltanto il mio uovo di Pasqua, io lo regalo molto volentieri. Mirella, ma hai rinunciato ad averlo te per regalarlo a lui? Sì, chissà che bella sorpresa c'è dentro. Sai cosa facciamo? Eh? Lo dividiamo tutti quanti insieme e la sorpresa la tieni te, eh? Sei contenta? Sì. Ti vedo più tranquilla. Sei stata te, Giulia? Eh? Vieni qua dalla mamma. Vieni, amore. Sei contenta? Tantissimo, avrò un fratello. Finalmente avrò un fratello. Avremo un fratello! Avremo un fratello! No, è solo mio. Ma noi sappiamo tutto di lui. È anche nostro. Sì, Giulia, è anche nostro. Beh, sapete cosa mi dispiace? Mi dispiace che purtroppo il bambino sia ancora nella pancilla della mamma e non possa assistere a questo momento molto bello. Ma soprattutto mi dispiace che non possa sentire che voi lo chiamate fratellino. Oh, ma lui sente tutto attraverso di me, amore. Mamma, apri la bocca. Come apri la bocca? Su, dai, spalancala. Ma quello che è aperto è chiuso? Aperto, aperto. Così? Sì. Ciao, fratellino! Ciao, fratellino! Beh, adesso dobbiamo assolutamente festeggiare, eh? Allora, avete portato il pallone? Sì! Insomma, che aspettate? Forza, andatevi, vi manderò a casa che sarete sfiniti. Forza, a giocare, su! Elisa, amore, ecco vedo io adesso... No, guarda, non mi dire nulla perché questa volta sennò va a finire che ti dico di sì, eh? Ma, amore, non possiamo più aspettare, capisci? Non possiamo più... Oddio, effetti, anche te hai ragione. E allora? Allora che... No, dico, e allora... Allora... Questa volta mi sa che ti dico di sì. Sì. Ha detto sì, finalmente! Stefano! Finalmente! Finalmente! Guarda questo! Lo sapevo! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo! Stavanti mattina quando mi sono svegliato, mi sono guardato allo specchio e ho detto... Lei oggi... Lei oggi mi dice che mi sposa! Lei oggi mi dice di sì! Sì, ma vieni giù che soffro di vertigini, eh? Se che di questo modo guarda che ci ripenso e ti dico di no, poi! Eh, ma non è possibile, amore! Eh, no! Eh, no, tu non puoi, capisci? Noi... Noi ci amiamo e... Io... Io... Io ti amo dalla prima formina che abbiamo fatto sulla spiaggia. Dal primo bacio che ci siamo dati. Ti ricordi dove eravamo, amore? Eravamo qui. È vero, eravamo qui. E tu avevi sulle spalle la cartella, no? E io... E io ti amavo. Insomma, io ti amo da 15 anni, amore. Eh sì, e tutte le ragazze quando eri a Roma? Ma quello non contano niente. No, 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 quelle sono state delle... Delle avventure, delle sciocchezze, ecco, io... Siccome tu non mi consideravi, allora io... Io mi consolavo, mi... Amore, io voglio invecchiare con te. Ah, questa è una bella prospettiva. Beh, che c'è di male, scusa, eh? Eh, noi ci siamo amati da piccolini, no? Noi eravamo bambini. Poi ci amiamo adesso che siamo giovani e ci ameremo quando saremo vecchi. Ah, io sono giovanissimo ancora, eh, guarda. Guarda un po', guarda un po'. E sono felice! Beato me! Esatto, beh, sono l'uomo più fortunato del mondo. Sposerò la donna più bella del mondo e mi nascerà il bambino più bello del mondo. Si, va bene, giunti qua, che mi fa ingrullire te in questo modo, eh? Balla con me! 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 Balla con me!